SOS Pesaro, emergenza economica, arriva il fondo per aiutare le famiglie pesaresi in difficoltà a causa dell'emergenza coronavirus. E quanto annunciato dal sindaco Ricci, si tratta di un contenitore per far esprimere ulteriormente la solidarietà pesarese nei confronti della popolazione bisognosa, attraverso donazioni che serviranno per le esigenze principali, a partire dai beni alimentari alle spese per la casa. L'obiettivo, sottolinea il primo cittadino in conferenza stampa, è di creare un fondo con una gestione rapida e autorevolezza pubblica. Contributo iniziale è stato dato dalla Giunta, che ha di fatto erogato il primo versamento all'associazione. La donazione può essere effettuata attraverso la piattaforma online GoFound.me. A partire da domani, l'amministrazione ha comunicato che sarà attivo anche un conto corrente bancario. Il comune di Pesaro, per fronteggiare l'emergenza coronavirus, ha aggiunto uno stanziamento di 63 mila euro ai fondi nazionali per i voucher e 100 mila per la distribuzione delle mascherine. Nonostante lo stanziamento di questi contributi, il sindaco di Pesaro ha anche ribadito più volte la difficoltà che anche i comuni stanno attraversando a causa della mancanza di entrate, venute meno dalle varie tasse, tra cui quella di soggiorno, dagli introiti dei parcheggi, rette e occupazioni di suolo pubblico attualmente sospese. A questo proposito Ricci ha lanciato un appello congiunto con altri sindaci al governo per ottenere a livello nazionale 5 miliardi nel decreto aprile per fronteggiare l'emergenza. Inoltre l'appello del sindaco, che ha raggiunto già 500 adesioni da parte degli amministratori locali, chiede espressamente di avere più poteri per velocizzare e semplificare le pratiche e fare ripartire al più presto i cantieri.